e ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di brawl stars ragazzi ho scopo non il primo video di brawl non era proprio un video di brawl perchè oggi andiamo a reagire come sarà diciamo non il brawl pack ma il brawl talk ovvero lo vedi con tutte le notizie oggi mi ha lasciato un video di cominciare il brawl e mi ha detto cosa è il brawl talk io ma provate tra gli ardi manca 30 secondi intanto io ho già visto il brawl e però non me lo so guardato tutto che non mi ha visto le skin e perchè c'è un gatti raga è horror comunque raga io ho visto un cane credo però raga semmai è fake raga non è vero cioè no semmai è vero può essere vero no però raga è vero perchè se ci vedete bene raga hai fatto bene 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 se se non è vero raga no raga è vero finitati perchè gli alieni no regalci non ancora gas c'è cosa c'entra la visione di qualcosa sugli alieni raga vediamo ciao ciccio come stai raga no ciao we gott cosa ho visto raga non si vede niente raga ma non è un gatto ma raga ma sta un cane ma non è un gatto ma cosa dite ma che problemi avete ma un cane vedete dal psicologo un cane raga ma sta a cani comunque se non è troppo grande di grafica guardate confronto genico così per terra Regà, ancora qualcosa di qui sopra Sto sotto la schede, regà Sto sotto la schede, non sono così tutto Vabbè, regà, scusate, vado tutta la saluta Regà, vedete che risponde qualcosa Cosa c'era, regà? De che bello, regà Vabbè, abbiamo troppo la seconda schede Troppo bella, regà Ho provato di capire, troppo, troppo bella Che bello, che bello, regà Che bello, regà, come la schede Resto, last time Che bello, tipo Puccio Cosa ha visto, regà? Il primo è venuto a te in febbraio Si fa cosa mi fredda, c'è un percorso Che cringita, ragazzi Manca uno, ciccio Manca uno Vai, ce lo fai adesso Vabbè, ragà Molto bello Mi immagino qualcosa in più Pensavo ci fossero due brawler Deluso, ti vi dico Noi non vanno a mettere qualcosa in più Vabbè Spero se vi sia vissuto Ciao a tutti ragazzi